Promozione delle eccellenze calabresi al MEC di Zumpano. Si è tenuto qui un seminario di divulgazione dei risultati relativi alla filiera corta alimentare finanziato dal GAL SILA Sviluppo. Durante l'incontro sono state presentate le videoricette relative alla preparazione dei prodotti calabresi. Tra i relatori presenti al tavolo, oltre al direttore del GAL SILA Sviluppo, Francesco De Vuono, hanno partecipato il sindaco di Zumpano, Fabrizio Faviano, il general manager del MEC, Giovanni Guido, il presidente dell'enoteca regionale Gennaro Convertini e il direttore del consorzio produttori patata della SILA IGP, Albino Carli. La patata della SILA oggi è una realtà, è una realtà di prodotto, è una realtà di comunicazione, sta diventando un driver molto importante per il sostegno del territorio silano. Quella di oggi è quella presentata appunto da Illogica, la società Illogica, come capofila, che riguardava appunto l'implementazione di una piattaforma commerciale già esistente, che è il MEC, ma in questo caso vengono valorizzati la filiera corta di progetti che sono all'interno del territorio del GAL. Noi non abbiamo fatto altro che selezionare alcune eccellenze agricole e anche con aziende della trasformazione sempre agroalimentare, li abbiamo portate sulle tavole di diversi ristoranti, quindi attività della ristorazione sempre del territorio del GAL. SILA e oggi presentiamo anche qui in esclusiva per la prima volta le videoricette che abbiamo voluto sviluppare nell'ambito di questo progetto.